E' una guerra finanziaria questa? No, ma è una guerra finanziaria? Io sono anche d'accordo con quello che diceva la professoressa Clark prima, quando diceva che occorrerebbe anche un grande movimento di opinione pubblica su queste cose. Io però faccio notare questo, che non c'è mai stato, come in questa epoca dei social media, un accesso diretto alle informazioni. Non esiste più un'intermediazione delle informazioni. Quindi è vero che alcune notizie dai grandi media di tutto il mondo possono essere in qualche modo drogate. Può essere vero che tramite i telegiornali, che sono tutti uguali, è spaventosa questa cosa, non so se ci avete fatto caso, ma anche solamente rispetto a 15 anni fa, se voi cambiate improvvisamente tra Tg1 e Tg5, trovate lo stesso servizio nello stesso momento. E vi faccio notare che in questi servizi, da questi servizi, è sparita la politica estera. Non si parla dell'Africa. Voi ditemi l'ultima volta in cui su un Tg1, un Tg5 o la 7 si è parlato di un paese africano. Ditemelo voi. Io non l'ho visto. Contemporaneamente a questo, esiste un problema già studiato dagli storici, che è il passaggio dalla informazione mediata, e che quindi può essere drogata, all'informazione non mediata. E l'informazione non mediata, purtroppo, rivela quello che è il tasso, voglio dire, di ignoranza collettiva, non solamente italiana, ma io mi limito a parlare del mondo occidentale. Cioè, nel momento in cui non c'è mediazione nell'informazione, allora è tutto vero. Improvvisamente ogni leggenda diventa vero. Si devono creare dei siti apposta per smontare delle fake news, perché girano delle fake news e persone che credono alle fake news. Cioè, esiste un paradosso sul quale, purtroppo, non ci sono ancora delle indagini storiche, perché siamo troppo recenti per poterlo dire, ma non esistono neanche delle indagini sociologiche sull'impatto che ha avuto sulla società occidentale, ma anche sulla società mondiale, dell'informazione non mediata da nessuno. Per cui, tutto è vero, tutto è falso. Tutto è credibile, tutto è incredibile. Tutto è, io ci sono stato, e poi si scopre che non è vero. E questo, tutto questo, crea un problema enorme di opinione pubblica internazionale. Perché i grandi movimenti che nascono dalla base, i grandi movimenti sociali, come poteva essere stato il 68, e tutto quello che è nato attorno alle associazioni non governative, devono passare anche attraverso queste forche caudine. Cioè, il fatto che un'informazione, che può essere anche un'informazione veritiera, di movimenti pacifisti, che senz'altro esistono sia in Ucraina che in Russia, un movimento di opinione pubblica, che può anche esistere nei paesi baltici, piuttosto che in Scandinavia, contraria all'espansione della Nato da un lato, e contraria da quella che può essere una guerra di aggressione, come quella che è stata la Russia nei confronti dell'Ucraina, passa poco perché picchia poco su quelle che sono le pance delle persone. Facciamoci caso, i temi che passano sono temi che vanno sulla pancia della gente, non vanno sulla riflessione, non vanno sulla mediazione. Si richiede perché Twitter ha successo, perché ha avuto successo, e perché Elon Musk era interessato a Twitter. Perché uno deve racchiudere un pensiero in 140 battute. Perché siamo capaci in questo momento di fare una riflessione su quello che ci viene fornito come opinione in 140 battute. Se andiamo oltre le 140 battute, siamo già generalmente a un livello di distrazione di massa. Fatichiamo a capire che cosa ci viene fornito. E questo è un limite enorme che lascia spazio, come si diceva adesso, agli algoritmi. Decide qualcun altro per noi, probabilmente anche perché noi non abbiamo né tempo né voglia di stare dietro a quello che effettivamente succede. Professor Rossi, un breve intervento di chiusura? Breve intervento di chiusura. Io mi limito a dire che, non lo so, faccio fatica a non interpretare quello che sta succedendo anche come credo succeda a tutti, sulla pelle delle conoscenze personali. Io parlo di un'esperienza personale che è quella della badante che è da mio suocero che ha i parenti a Viniza e lei oggi cangeva perché è anche difficile da dire. È anche difficile da dire perché sono cose che almeno a me personalmente toccano nel profondo. sapere che sono arrivati dei missili dal nulla a colpire una città che è, se la guerra mettiamo è a Bolzano, una città che sta a Palermo, trovarsi un bambino che muore su un passeggino e sapere che c'è una persona con cui tu, bene o male, condividi quotidianamente quelle che sono un po' le quotidianità, sapere se questa telefona e non sa se ci sono di mezzo i figli o i nipoti, non lo so, per me è molto faticoso anche se da storico dovrei essere probabilmente più distaccato, più lontano, più distante, faccio molta fatica, molta, molta.